Buongiorno, sono Fabiola Romani, la conduttrice del TGLT4 Blog. Ultima ora, passiamo alle notizie. Cavallino Treporti. A gennaio 2025 si riuniranno i Vescovi del Nord-Est per un incontro su democrazia e bene comune. 7 e 8 gennaio 2025 i Vescovi del Nord-Est saranno a Cavallino Treporti per una o due giorni dedicata ad approfondire le tematiche che riguardano la democrazia e la partecipazione dei cittadini. Alla vita pubblica è il rapporto tra identità, locali e livelli superiori, nazionale, europeo, mondiale, ecc. In un'ottica di bene comune, sussidiarietà e solidarietà. Sarà l'occasione per riflettere insieme in modo simodale, alla luce della dottrina sociale nella Chiesa con la partecipazione anche di rappresentanti delle diocesi e di alcuni testimoni ed esperti su argomenti e questioni che in modo diverso interessano, coinvolgono la vita dei nostri territori. Spiegano dalla conferenza episcopale Triveneto la conferma sull'appuntamento è arrivata ieri da Verona, dove i Vescovi Nord-Est erano riuniti per una prima riflessione sugli esiti di una ricerca sul diaconato permanente nel Triveneto. Nella stessa riunione erano all'ordine del giorno anche un aggiornamento sul percorso in atto per il convegno catechistico regionale sul tema, un annuncio che incontra la vita. Riscoprire il battesimo porta alla fede che vivrà il suo appuntamento finale il 28 settembre 2024 ad Aquileia, una comunicazione in vista della settimana di spiritualità familiare che l'Ufficio Nazionale CEI organizzerà nel Triveneto. Nella primavera del 2026, infine, un momento di dialogo e confronto sulle iniziative previste dalle singole diocesi in occasione del Giubileo 2025 che sarà aperto ufficialmente alla fine di quest'anno. Noventa, ecco tutto il programma dei festeggiamenti settembrini tra le novità, un Luna Park più grande. Riecco noventa in piazza, si annunciano quattro giorni di grandi eventi a noventa con i tradizionali festeggiamenti di settembre. Si parte venerdì con l'apertura degli stand gastronomici e dal Luna Park alle 21 sul grande parco in piazza la serata anni Ottanta con la musica di Radio Company e le esibizioni di Sabrina Salerno e dei The Twins. Sabato, doppio appuntamento, nel pomeriggio con la caccia al tesoro proposta dall'Officina dei Mulini e in serata con la festa febbre a novanta. Domenica si annuncia una giornata piena di eventi. Alle 11 si terrà la consueta premiazione delle eccellenze noventane. Alle 17 spazio al noventa Groom Fest con l'esibizione di giovani band in serata all'evento noventa italiana lunedì sera il gran finale con lo spettacolo di danza della scuola Laboratorio Musica e Danza. E alle 22 e 30 lo spettacolo pirotecnico In Golena, novità di quest'edizione è una migliore dislocazione logistica dell'evento è un Luna Park più grande via Calnova e via Romanziola manterranno inalterata la viabilità per venire incontro alle esigenze degli operatori. Modificata la dislocazione del Luna Park sarà mantenuta una prima area giostre tra piazza Vittorio Emanuele via Roma e via Piave. La novità è la seconda area giostre nella zona degli impianti sportivi. Abbiamo spostato le giostre per i ragazzi più grandi dalla zona alberghi alle scuole. Questo è stato pensato per la sicurezza dei ragazzi perché non andassero troppo in giro e per avere una continuità con tutte le giostre vicine. Questo ci ha permesso di avere più attrazioni anche per i ragazzi più grandi come la nave pirata. Sappiamo che questa dislocazione creerà qualche disguido perché non sarà possibile utilizzare il parcheggio dello stadio. Ma sono a disposizione i parcheggi alternativi zona Eurospar e zona alberghi. Abbiamo voluto creare anche meno problemi mantenendo aperta via Romanziol dice il sindaco Claudio Mariana piazza Vittorio Emanuele fino a via Roma rimarrà chiusa da domani fino a martedì all'ora di pranzo con deviazione verso via Guagliane TG finisce qui io vi ringrazio di avermi seguito ci vediamo alla prossima un bacio da Fabiola Romani ciao ciao